Buongiorno, buonasera, ci siamo? Allora questo in teoria è il secondo episodio di Macete Skins Nel primo che era un po' la puntata zero c'è stato Manuelito Abbiamo un po' introdotto tutto quello che facciamo Di base questo qui è un format Twitch che è la controparte video di un podcast Che si chiama sempre Macete Skins Quindi qui su Twitch in realtà approfondiamo un po' quello che abbiamo già detto nelle pillole Però in modo un po' più interattivo Ci sono un po' di ospiti, si parla con un po' di gente Oggi è una giornata in cui ci sono due ospiti molto speciali Probabilmente saranno sempre molto speciali i ospiti Però questa sera sono molto molto speciali Abbiamo invitato Lazza perché pochi giorni fa è stato l'anniversario Il quarto anniversario di Zala Che è stato il suo primo disco ufficiale Nonché il primo disco fatto diciamo nell'orbita Macete Più precisamente nel mondo 3 mob o 333 mob Che dir si voglia poi ne parleremo un attimino Mentre Andrea Folino l'abbiamo invitato Perché lui è il regista di una marea di video di Macete È il primissimo regista di Macete Insieme a Mirko Di Angelis, Alberto Salvucci, Corrado Ha fatto insomma un sacco di video per Macete Ha fatto anche il primissimo video per Macete che era Ancio della Luna E ha fatto anche il video di Mob Che è stato diciamo il singolone di Zala Che è appunto il disco di cui parlavamo prima Quindi si tratta di un doppio anniversario Anniversario Zala, anniversario Mob E quindi ne parliamo con chi ha fatto quel disco e quel pezzo E con chi ha fatto quel video In realtà iniziamo con un paradosso Nel senso che Lazza in teoria non è parte di Macete Lazza in realtà probabilmente la maggior parte delle persone Che stanno seguendo questa live già lo sapranno Quindi sto dicendo cose che è inutile spiegare Però Lazza è parte di una famiglia, un'etichetta Un collettivo anche se vogliamo Che si chiama Tremob o 333 Mob Ha diversi punti in comune con Macete questa realtà Perché è fondata da Lowkid e Slyte Lowkid è direttore artistico, producer di un sacco di artisti di Macete Lo sapete già E Slyte è uno dei fondatori di Macete Quindi in realtà Tremob già in partenza nasce Proprio con l'organico Macete La differenza principale tra Tremob e Macete è proprio l'identità sonora L'identità anche estetica che sono molto diverse Nonostante come abbiamo detto abbiano molti elementi in comune Mob è un collettivo, un qualcosa che nasce in strada nei primi anni 10 Nei primi anni del 2010 Da Lowkid con tutta la sua compagnia di amici Era il classico collettivo street, il collettivo da panca Che però poi è diventato qualcosa di più E proprio insieme a Slyte appunto si è costruita questa struttura Tra il 2016 e il 2017 è nata questa struttura madre Che è Minext Che potremmo definire in qualche modo un'agenzia di management Che racchiude in sé tutti questi artisti Tutte queste realtà che ho indicato prima Quindi include Macete Include Tremob, include Macete Gaming E include tutti quegli artisti Che fanno parte dell'orbita Macete Che però magari Non sono effettivamente parte di Macete Tipo Mara Sattei o Da Supreme Che sono Minext Ma non sono esattamente Macete E' per questo che oggi parliamo di Lazza Nonostante si parli di storia di Macete Perché Lazza nonostante non sia Propriamente Macete E' storia di Macete E c'è un pezzo in particolare Di cui abbiamo parlato prima Che è appunto Mob Che è ovviamente featuring Salmo e Nitro Mi sentite? Ti sento! Alla grande! Ci siamo! Ok Considera che questa è la seconda live su Twitch Che facciamo Ed è un po' il battesimo di fuoco Perché la precedente l'ho fatta con Erratone Che come sai è un super nerd Che se la gestisce alla grande Adesso sono solo con tutti questi pulsantini Che non so come si fa In questa live L'ho detto all'inizio ai ragazzi Insomma ho raccontato Perché tu sei Macete Nonostante tu non sia Macete Nel senso che tu sei assolutamente parte della famiglia Sei stato un grande protagonista del Macete Mixtape 4 Collabori con Mob da sempre Che in pratica sono con tre Mob Insomma tutti i ragazzi di tre Mob Che coincidono un po' con l'organico Macete E ho citato anche il tuo ritornellino In Mister di Jack the Smoker In cui dici proprio che il tuo crew Fa due platini con un mixtape E quindi più senso di appartenenza di questo Non può esistere Ho sentito sentito Ti stavo seguendo Stavo capendo quando entrare più che altro Ah ok Io vabbè Vorrei iniziare guardando un video insieme Nella speranza che la tecnica ci aiuti Che è il video che aveva girato Il buon Alexander Coppola Della tua apertura al Fabric Al Fabric Al Fabric Di dicembre 2016 da Salmo Quello era Insomma era il tour di Salmo di Elvis Beck Lui ha fatto queste due date al Fabric Che aveva fatto aprire Insomma a quelli che al tempo erano emergenti Gli emergenti del tempo di quella serata Erano tu e Vegas Becchiamocelo Mi ricordo che all'inizio dici Sono un po' teso Pensare che hai due anni e mezzo La storia della tecnica C'è qui la predica E' un po' di finanza al posto Uno, due, tre Devastante Fighissimo Bella Alexander Coppola Un salutone Alexander Coppola Genius regolatezza Genius regolatezza pura Perché poi Vabbè Tipo è matto Tu che ricordi hai di quella serata Quei giorni Quel periodo anche Ma io mi ricordo che in quel periodo Usciva DDA Che al tempo fece dei numeri Che in confronto a quelli di oggi Sono piccoli Però Erano già grossi numeri Rispetto a quelli che facevo al tempo Perciò Mi sembrava quasi surreale No? Appunto mi ricordo che Quando vedi il video Che fece le prime 100k In un giorno Per me era assù Comunque ti dicevo DDA fu anche il mio primo milione Di visualizzazioni Che per me era una roba Io ti seguo da Da quella roba lì Quindi ho visto Destiny Ho visto Ho visto nascere K1 Mixtape Ho visto poi Freestyle del Ritorno Nel 2015 Cioè quindi Chi segue questa roba qui Sa che Zala È stata una rinascita No? Minca sei la Sei la Treccani Del rap italiano Io sono la Treccani Del rap italiano Non sei la prima persona Che me lo dice E l'ingresso in tre mob Poi ne parliamo Secondo me ti ha dato Proprio quell'apertura A livello di sound Però in realtà Appunto Se uno si sente K1 Cioè se io penso a pezzi Come Non stai servendo a un cazzo Cioè Quello Quello è il grezzume Che anche oggi Andrebbe Cioè sarebbe È quella roba lì Spesso e volentieri Ci sono Delle persone Magari cari a me Come possono essere Che ne so La mia fidanzata Piuttosto che mia madre I miei genitori Qualche mio amico Comunque magari Fuori dal mio lavoro Però comunque Molto vicino a me Nella vita privata Che magari Talvolta capita Che mi dica Ma provo a fare una roba Più Masticabile Da tutti Capito Che io capisco Assolutamente Il discorso È una formula Molto difficile Nel senso che Cioè comunque Rimanere coerenti Facendo un'altra roba Non è facile Cioè se a me Mi vai a levare La rima di concetto Piuttosto che la punchline Piuttosto che la doppia rima Cioè Mi sembra di farmi un dispetto Ma io ho iniziato a fare musica Perché Avevo bisogno di una scappatoia Capito Mi serviva Cercare di esprimermi In una qualche maniera Che probabilmente In maniera colloquiale Non riuscivo a fare Quindi diciamo Che il mio dialogo Era quello Posso chiedere una cosa All'Azza Prego Sì Grazie a posto Era necessario Ragazzi Non so Non so che dire Va bene così Venga Gennaro Venga Eccomi 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 Vattene Dice vattene Questo è contenuto Comunque Tornando alla Alla musica E non a Gennaro Gennaro A parte il freestyle A parte la serata Diciamo Io ti ho voluto far vedere Quel video Prima del Fabric Perché ce l'eravamo detto Anche prima Per me Quello è un po' L'inizio Di una campana Di un cerchio Che poi in qualche modo Si è chiuso Sono molto pretenzioso Da me stesso Nel senso che Quando io magari Vado a tirar fuori Un progetto Mi ricordo Che quando stavo Impacchettando Zala E nel frattempo Mi bocciavano Alla patente Perché stavo Finendo il disco Guardo mia madre Le dico Mamma Io sappi Che con questo disco Farò disco d'oro Perché voglio fare Disco d'oro E farò sold out A Milano E i magazzini generali Perché sono sempre Andato a vedere I primi concerti Con questo disco Penso di potermi Permettere tot Perché chiaramente Non potevo fare Un Alcatraz E così è andata Ci tengo A rispettare Quello che mi metto In testa Capito Un po' Una sfida Con me stesso Certo Ma poi è un po' La visualizzazione Visualizzi Agisci Per raggiungere Un obiettivo Sennò sarebbe Un po' Un po' Sommiglio No nulla Non ce la faccio Stavo a ridere da solo Dove per forza Stacco un attimo Con la zina Fino a che non se ne va Per favore Sì prendo uno sgabello Prenditi uno sgabello E siediti Però io non lo sento così Come lo senti Non lo sento Davvero Sì Sollillo Mi piacerebbe parlare Tornando al discorso Di Zala Della prima traccia Che poi ha avuto Anche un seguito Che si chiama Overture Diciamo che Zala Di cui abbiamo festeggiato Pochi giorni fa Il quarto anniversario È un disco Molto compatto Ha un sound Un po' più omogeneo Rispetto a Remida Che è un po' più blockbuster È un po' più vasto Però già Racchiude in seno Tutti i germi Del tuo stile Della tua scrittura E Overture È un brano In cui tu hai messo All'inizio Il Mi pare Il notturno 20 Di Chopin Com'è stato farlo? Tra l'altro Quella è la strofa In cui tu In un po' ti Cioè ti sveni di più Lì c'è proprio del sangue Sai cosa fa ridere? Che l'intro è sempre L'ultimo pezzo Che faccio Eh beh è chiaro Tranne in caso Del prossimo disco Non devo dirlo Mi sa Puoi dirlo Puoi dirlo È uno spoiler piccolino Però è uno spoiler Ah sì 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 Insomma Quindi In quel disco Parli anche un po' In quel pezzo Parli un po' Di esperienze Insomma Peso tu È la roba dell'ospedale Di chiudere il disco In ospedale Poi di buttarlo via Di rifarlo Cioè comunque Quel primo disco È stato un po' Una A prescindere poi Da come sia andato Che è stato Disco d'ora Il primo disco Però comunque È stata una Una bella liberazione No? Sì assolutamente Mi ricordo che Quando sono L'ho detta forse Già qualche volta Sta cosa Ma quando ho chiuso Vertour Sono uscito Dallo studio Dal main Dove registro io In macete Sono uscito piangendo Continua a parlare In sala Comunque prima Prima ho sentito Vattene in delay Dopo sono un po' Scoppiato In lag Vattene Vattene Vabbè Comunque Tra Tra altro Dettaglio In questo momento C'è Folino di là Che a breve Entrerà per parlare Di un po' Di video Tra i video Noi Parleremo con lui Di sicuro Del video di Mob Io vorrei parlare Un po' Con te Se ti va Del pezzo Mob Se c'è Non so se In realtà C'è una storia Particolare Io mi ricordo Che tu avevi annunciato L'uscita del disco Dicendo che non c'erano Featuring E poi Il giorno prima Tipo Hai detto Ho mentito Un featuring c'è Ed è spuntato Mob Salmonitro Ed è una cosa che Insomma aveva Dispettoso figlio di puttana Dispettoso figlio di puttana Era una cosa che aveva abbastanza Io Lasciato tutti sconvolti A te pure Sì 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 Ti ricordi qualcosa Di come è nato quel pezzo Le vibe Ma mi ha fatto super ridere Che Allora Mentre Salmo stava registrando La strofa Io ero in giro di notte A scattare il booklet Cioè È stata proprio L'ultima strofa Che è arrivata È stata La strofa di Salmo Su quel pezzo lì Che noi eravamo in consegna Proprio tirata Capito Massimo Bella Massi Un abbraccio Massi È un fratellone È un fratellone Il tipo è la persona Vediamo bene Il tipo è il problem solver Con le gambe Nel senso che se tu Cioè lui Pur di risolverti un problema Piuttosto se non ce l'hai Te lo crea per risolverlo Esatto È talmente È mister wolf Sì raga Il tipo è Hai un problema Te ne risolve due Capito È la persona Giuro Più precisa Che conosco nella vita Infatti Tanto di cappello Volevi dirmi Quanto Sai quella cosa è bella Che si sente solo La ste cuffie Ma secondo me L'hanno sentito Anche nell'altro studio Allora Ho un piccolo problema Ha crimpato tutto Lo posso dire Siamo tamponati tutti No A parte quello Ho fatto finta Tutto questo tempo Di sentire con queste cuffie Ma in realtà Non si è detto un cazzo Proviamo l'ultima volta Proviamo a Vabbè Proviamo a fare questo giro Quando è uscito Mob Poi ci sono i soliti Rosiconi Di turno Che mo' sono quelli Che mi scrivono drill Capito Sì Prima è arrivato Qualche messaggio Tanto per attirare L'attenzione Devono dire qualcosa Al tempo mi dissero Se non fosse per Nitro e Salvo Non faresti mai Disco d'oro La settimana dopo Ha fatto oro Lario Sì perché poi Mob era stato il primo E poi ha Insomma Ha cascato E poi una sfilza Infinita di tutti gli altri Quindi spero che questi qua Che hanno detto così Si siano ricreduti Come ti raccontavo Questa qui è la controparte Video dei podcast Che stanno uscendo È uscito un primo drop Tre settimane fa Questa settimana Oggi è uscito un altro drop In cui parliamo di Mob Di Di 333 Mob Di tutta una serie di robe Nel prossimo drop Ci sarà una pillolina Che si intitola 2012 La svolta Che è una Insomma una cheat Del pezzo di Salvo In cui parlo Del primissimo incontro Che c'è stato Cos'è? 1-9-8-4? 1-9-8-4 Esattamente Esattamente quello E parlo del primissimo incontro Che c'è stato Tra qualcuno Che adesso sentiamo Quindi io vorrei Adesso condivido lo schermo Ma forse ho capito E faccio risentire All'Azza E alla live Per la prima volta Una cosa simpatica Vediamo Cioè il mio ingresso In casa macete Il tuo ingresso In casa macete Questo è il primo contatto Tra Lazza e macete E ovviamente Il progetto che Slite Stava mixando Prima di venire interrotto Era il Bloody Vinyl Volume 1 Io non mi presento mai Col nome d'arte Lo immaginavo Ammetto che questa Comunque È una Una versione romanzata Da me Per renderla Un pochino più È figo È molto figa Stai producendo Ancora un po' Sto producendo Ci sarà qualcosa di mio Prodotto personalmente Da me Nelle mie prossime robe C'ho qualcosa Che ho dato in giro Da altri Per i loro progetti Per quello che riguarda me Comunque Ho cercato di ampliare I miei orizzonti A livello dei producer Se io non posso portare Il mio disco Su un palco Non me lo butto Eh vabbè Ma ci vuole pazienza Io piuttosto Mi mangio le mani in casa Ma il mio disco Deve uscire In una maniera Che deve essere Cioè per me Sacro santo Che il disco Esca come si deve Che abbia la promo giusta Che abbia Un tour annunciato Folino te lo porti spesso Ai live? Folino purtroppo Non me lo porto spesso Ma mi farebbe tanto piacere Vengo a farti le doppie La zi Vengo a farti le doppie È una persona Con cui mi figlio Veramente Bene Cioè Lui sa Che io Minchia Come scendo dall'aereo Quando vado in Sardegna È la prima persona Che vado a salutare Anche perché è quella Più vicino all'aeroporto Poi parleremo anche Di questa roba Dell'aeroporto Che sarà interessante Siamo tornati Io io Ve ne sei andato Per fortuna Non posso vedere Il numero Delle persone che guardano Come state? Sono andati tutti Come state? Allora Folino Allora io ti faccio Una mini presentazione mia Perché io voglio dire Questa cosa È una gag Che io faccio sempre Però è vero Io sono più fan Dei registi E dei grafici Dei graphic designer Che degli artisti Che fanno musica Semplicemente perché Io da quando ero piccolino Avevo la fissa Dei video Delle robe E quindi Io mi andavo sempre A cercare tra i crediti Registi Molto più che I producer E i rapper E Andrea Folino È uno Cioè Che per me È una specie Di istituzione Perché intanto Io sono del 98 Ok tu sei del 95 95 Quindi ci passiamo Solo tre anni Però lui Nel 2010 Ha fatto il primo video Di Macete Ovvero il primo video Di Salmo Che è il rancio della luna Facendo un breve calcolo Questo fa 14 anni Cioè 15 Diciamo Andrea Folino Ha girato È il primo regista Di Macete Ha girato il primo video Quando aveva 15 anni Per Salmo Per il rancio della luna Quindi Io piccolino Che volevo fare i video Vedevo Andrea Folino Nei nomi E dicevo Ok Io voglio fare la roba Che fa lui Poi Oltre a te C'erano Insomma I videomaker Storici Di Macete Sono Mirko De Angelis Alberto Salvucci Che avevano anche più esperienze di te Mirko ci ha insegnato Veramente Tante cose A tutti Grande Mirko Mirko è un Leggente C'è un po' di Kubrick In questa live Kubrick Ok A posto Torniamo Torniamo a normali Questo è il lavoro di regia Vabbè Tu vuoi presentarti In qualche altro modo Oltre a quello che ho detto io Vabbè No Ci sei tu Che già hai fatto una presentazione Che quasi non mi merito Giorgio Monorith Vorrei parlare come Giorgio Monorith Nella vita Ma Per fortuna Ce n'è solo uno Ed è qui con noi Io la prima volta che ho letto il tuo nome Nel senso che mi avevi mandato una mail Dove mi avevi chiesto Sì Ti avevo fatto ascoltare in anteprima le robe Esatto E infatti Mi era arrivata questa mail Non ti conoscevo Ho inviato lo screenshot a Manuelito E ho detto Manuelì Tutto ok Sei sicuro Tutto ok Devo dire cose Devo fare qualcosa Manuelito Vai tranquillo Vabbè Ci mettiamo in un angolino Non disturberemo Adesso ci guardiamo Mob Dai aspetta Ok Buona visione Primo figlio mio Sono tuo padre Quindi non chiamarmi zio Vaccicio come il gym Lecce nella bio Che non sono James D Infra Sono James D Ho il fuono sadomaso Tipo palla in bocca La mia gente non ti fa la pelle Ma la pelle doc Stendi red carpet Sono fred carpet Dove ti sto azzalando Ti ho fatto le scarpe Siete bambini Dentro un pera di carte Spiango e mi dispera Faccio un tour su marca Sto trovo risarmi Tu figlio non mi senta Mi intuisce So che intelligente Le capisci Domani smetto Questa scena Sparisce lo ammetto Sto pezzo è un difetto Sì Levi Venivamo già da un bel po' di date Vabbè Lazzino prima Ha preannunciato Il loro arrivo Che sono Sono arrivati Lui Sono arrivato Moab Il nostro bellissimo Stole Ciao Moab Che ci sta guardando Ti salutiamo Sei bellissimo Abbiamo due day off In tutto il tour Uno era ad Amsterdam L'altro era a Londra Scrivono uno dei migliori video In assoluto Addirittura Ho veramente Girato attorno all'hotel E poi Con le scene tipo Nel sotterraneo Era il sotterraneo Del nostro hotel Grande classico Sì Va bene Allora Questi erano un po' di aneddotini Su Moab Che insomma è un video Non è un video in realtà Particolarmente strutturato Anzi non lo è per niente Però è bello proprio per la storia Che si Non avevamo nessuno storyboard Nessuno niente In giro In giro Anche la roba Dei disegni Cioè dei disegni Sopra che ha disegnato Pietro Daoud Cioè sono nati Dopo Ma la scena tra l'altro Del reshow Era stata un'improvvisata di Salmo Improvvisata Sì 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 Ma come quella del paninaro Anche dopo Che lui c'ha Il panino in mano C'ha lo dog Quindi sì sì Quelle sono tutte improvvisate Oh Siamo lì Infermiamo Gran parte dei nostri video Devo ammettere che Fondamentalmente Ci sono Un bel po' di improvvisate Un bel po' di cose cambiate in corsa E cambiate dopo Che è quello che poi Li fa belli Sì Allora io direi Di passare a 1984 Che è un pezzo Importantissimo Credo sia uno dei video Più difficili Che abbiamo girato L'hai girato Insieme a YouNaz Che sono Bellissimi Nico e Antonio Nico e Antonio Che adoriamo Alla follia Sono il videomaker Cioè il videomaker Sono i registi Più forti d'Italia Nico e Antonio Che hanno creato Questo collettivo Questo nome Aspetta che condivido Condivido lo schermino È scritto È scritto in descrizione Se vedete Diretto da ACDC Nicolò Celai Andrea Folino Eusbergo Io ho cercato Per anni Di capire Che cazzo Volesse dire Questa formula È arrivato Il momento Di dirla È arrivato Il momento Di dirla A cazzo Di cane Potete Non lo so Applaudire In qualche modo Nella chat È stato Un dramato Per la scritta Eh lo immagino S-A-L-M-O Questo è S-A-L-M-O Direi Abbiamo questa cartellina simpatica Adesso vi facciamo vedere un po' di cose Abbiamo un po' di materiale backstage Allora Eri più giovane Ero più giovane Questo è il buon È il buon Mauri Questa Questa in realtà Questa è un'altra cosa È un'altra cosa L'ho riconosciuta Che però è anche ricollegata A questa cosa Che cos'è questa Vai dillo Questa è la telecamera Con la quale abbiamo girato Arancio della Luna A posteriori Qual è il tuo video musicale preferito? Il mio video musicale preferito In generale O Sia di macete Che in generale È dura Allora in generale Sicuramente uno dei video più belli di sempre È Kendrick Lamar All right Ok È stato un video incredibile È tutto in bianco e nero Secondo me si riferiva al Oddio Però effettivamente non so se si riferiva a quelli che hai fatto tu o me Ti chiedono La dove nasce la passione per la regia Forse è un po' di casa È un po' di casa nel senso Sì Poi regia nel senso Ovviamente Il mondo è la comunicazione Sì in generale Sì in generale Mio padre Ha sempre fatto questo mestiere qua Cioè è stato giornalista Quindi io ho tutte le telecamere Le cose Le ho prese da lui Quando ho iniziato a prendere le cose Ho iniziato a conoscere loro Quindi è nato tutto insieme Cioè non ti sei formato e poi hai iniziato a fare No Ti sei formato perché stavi facendo le cose Seguivo Mauri Salmo Quando lui suonava con le band punk Cioè che erano i tweet game Che suonavano nelle nostre zone Cioè andavo lì a fargli le foto Questo che cos'è? Questo è praticamente il progetto Con Per i ritagli della scritta Ok perché la scritta che avete visto prima Che si mega illumina 1-9-8-4 Esatto È una scritta È in legno È in legno È in legno È completamente vera E dopo che avete Per tirarla su Dicevi prima che è stato un dramma Dopo che avete fatto Per tirarla su Abbiamo tirato le funi Le carrucole Hanno fatto quelle carrucole Abbiamo fatto quel movimento lì sì E poi te lo sei portato in studio Lo sono portate in studio E queste capite Vedete quanto sono alti Questa è la base delle scritte Grande Fabrizio Arezu Che è mine Che è un writer Amico nostro Di Olbia Che si è preso lo sbatti Di fare queste scritte qua Questo è uno screen Vai raccontalo tu Questo è Mauri Che ogni volta Quando iniziamo a parlare Di video Subito Mauri è proprio Una fabbrica di idee Che ogni volta Ci scrive cose Infatti quando Gli vengono in mente Lui Prende Ci scrive subito Tipo Eliminiamo il piano Sequenza iniziale Vorrei partire così Microfono Anni 50 Anni 50 a peso E playback iniziale Che è quello che è successo Nel video Questo è il giubbotto Che è stato fatto Ad hoc Questo L'hanno fatto Con Frank Con i ragazzi di Doomsday Chi l'ha fatto scusami? Questo l'ha fatto Scan Sotto la direzione di Frank Ma comunque Sono dei brutti ragazzi Non andate a seguirli Su Instagram Soprattutto Frank Soprattutto Francesco Liori Francesco Liori Come si fa? Cioè proprio Non ha niente Di buono Quello lì Questo è il manichino Che c'è nel video Di stupido gioco del rap Ma dove l'avete beccato Il manichino? Questo manichino Ce l'avevamo noi in studio Sicuramente Per qualche altra cosa Ed è sempre stato lui Adesso poverino È bruciato Perché una volta Ci si arriva a dare fuoco A una persona Per un effetto Abbiamo dato fuoco A un manichino Però Questo Praticamente Qua stavamo facendo Delle prove di bilanciamento Con la testa Del crane Sulla carriola Bellissima Allora ragazzi Abbiamo fatto un po' tardi Io direi Senza che guardiamo altri video Se tu ci vuoi raccontare Andrea Qualcun Scegliere tipo Un video Non lo so Tra Venice Beach E estate di merda Che sono robe Di cui abbiamo parlato Ci vuoi raccontare qualcosina Io sono sicuro Che chi è rimasto È affamato Di dettagli Guarda Di estate di merda C'è C'è una chicca Bellissima Nel senso che Quando stavamo Girando su giro A parte che c'è Gigi Da Tome Che fa troppo ridere Nel video Che fuoriesce Dalla casetta Grande Gigi Grazie a chi sta donando Ah Manuelito Ha regalato Oh Manuelito Quanti abbonamenti Avete visto che fate bene A rimanere anche in tarda serata Manuelito Ha regalato 3, 4, 5, 6, 7, 10 Abbonamenti livello 1 Grazie Manu Il caldo Quindi Vabbè Mauri è uno di Di quelle persone Che per i video Da tutto Anche in Mussolini Quando abbiamo fatto Quel video lì Lui è stato Dentro l'acqua In una vasca Cioè Fino alle 6 del mattino Madonna Sarà uscito tutto Raggrinzito Prima ci bestemmia Poi dai dopo Siamo quasi sempre riusciti A contentarlo Poi si ottengono Dei bei risultati A causa vostra Sto finendo i Giga Da Tome che c'entra? Che c'entra da Tome? Chiede il Winklan Non so se sia Quello Da Tome è ovviamente Cioè Per me è il numero 1 Che c'è in Italia A giocare a basket E ovviamente Anche lui viene da Olbia Quindi C'è un legame Soprattutto Sardo Ma poi Sono anche amici Con Con Mauri Ci conosciamo E ci faceva Piacere Avere Insomma La sua parte Nel video Chiedono il montaggio Chi l'ha fatto Montaggio forse Pietro Pietro Daud La leggenda narra Che sia questo pezzo Che questo video Che la strumentale Che il testo Siano stati realizzati In 24 ore Negli studi Red Bull di Los Angeles In cui Salm era andato Per fare questa Insomma Questo challenge E anche per incontrare Per incontrare Travis Barker Se vi ascoltate la pillolina Travis Barker Che è uscita oggi Lo scoprirete Di sempre Ma anche perché Tra l'altro Tu fai anche musica Non voglio aprire questa parentesi Adesso perché magari è infinita Faccio musica Un parolone Nel senso Che tu con Andre Anche Con i Second Youth Hai fatto anche un progetto Tipo This is this is Sì Con i This is this is Che erano praticamente Gli altri componenti Dei Toys Game Con le persone Che sono Raffaele Tore Tore è quello che c'è In Stupido Gioco del Rap Con il cane Nel sedile di dietro C'è il cane Lì davanti Che si chiama Duki Come si chiama? Duki il cane Che è Come il titolo Dell'album dei Green Day Ok Raga Torna tutto Infatti In 1-9-8-4 C'è Duki più grande In Stupido Gioco del Rap C'è Duki piccolo Nella macchina Mi sa che infatti prima Anche in chat E chiedevano quel cane Infatti io mi chiedeva Il cane di Tore Desini Sono Miles Dilla Dilla Sommiglio Non ci doveva essere Un meme A cazzo Sul LOL Ciao raga Buonanotte Ciao Grazie mille Ciao raga Ciao raga Ciao raga